Piste ciclabili, nuovi percorsi da realizzare, da completare, allungare e rendere più sicure, da oggi un confinanziamento provinciale e comuni interessati, 18 in tutto, vede mettere in campo ben 2 milioni di euro di contributi. Sono i comuni che scegliono l'opera per il proprio territorio, per cui la provincia è molto contenta di questo perché è sicura che il finanziamento va a buon fine. La seconda cosa è che siamo partiti anche con l'aiuto sulla progettazione, soprattutto per cucire quei tratti in cui i comuni non riuscirebbero più a farli. Un milione e mezzo è destinato ad otto comuni per i lavori di realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e pisti ciclabili come ad Asiliano, a Monte Galdella, poi Ana Maggiore, dove si parla di nuovi percorsi. A Torre di Quartesolo l'intervento riguarderà il collegamento atteso con San Pietro in Trigogna, mentre a Montebello si tratta dell'ultimo tratto di pista ciclabile sull'Agnoguà. Una dozzina invece i finanziamenti ai comuni per nuove progettazioni, 490 mila euro vanno invece ad 11 comuni dell'Unione Montana, aspettabile reggenza dei sette comuni, sempre inerenti alle fasi di progettazione. Una rete provinciale, noi anche come provincia l'abbiamo già consegnata anche alla Regione, la Regione sta facendo un tavolo di lavoro con Veneto Strade.